Chiale Arreda Sì domani alle 20, nuova seduta del Consiglio Comunale di Pinarolo. Diverse le mozioni e interrogazioni dei consiglieri. Tra quelle più discusse, la revisione della ZTL nel centro storico di Pinarolo. Già accesi i commenti da parte dei negozianti che nel centro storico hanno la loro attività. Vivere all'interno della ZTL non è di certo facile. Basti pensare che se un residente deve entrare con la macchina per scaricare la spesa e la lascia parcheggiata sotto casa, si trova subito la multa, ha dichiarato Walter Bonus che gestisce l'edicola su piazza San Donato. Polemica anche Margherita Beltramino che insieme a suo marito gestisce l'omonima pasticceria. Allora, noi siamo andati già a chiedere al sindaco con mio marito e un parrucchiere in via Trento e lui come risposta ha detto che andava bene così la viabilità. Non mi sembra il caso perché hanno chiuso altri tre negozi storici e siamo andati dal sindaco a chiedere di aprire il centro storico al mattino dalle 6 all'1 alle auto. Al pomeriggio siamo invece favorevoli ad una chiusura totale. Bandito il sushi, gli involtini primavera, il kebab e persino la pizza. Queste le linee guida decise dalla giunta di Pinarolo a proposito del bando che verrà pubblicato nei prossimi giorni per la ristrutturazione e la gestione del caffè del teatro sociale. L'obiettivo è quello di ricreare la storica caffetteria del teatro. Vietate anche le slot machine. Vogliamo ridare alla città un locale di lusso e accogliente, dice il sindaco Eugenio Butiero. Intendiamo valorizzare i nostri prodotti, quelli a chilometro zero, tipici delle nostre campagne e delle nostre valli. Chi vorrà concorrere al bando dovrà essere pronto ad investire il 360.000 euro. Si tratta di due piani, il pian terreno e il seminterrato del lato nord dell'edificio, spiega l'assessore ai lavori pubblici Angelo Pisaniello. I costi di ristrutturazione compenseranno i canoni d'affitto. La caffetteria del teatro dovrà restare aperta anche durante gli spettacoli e gli eventi organizzati dal comune. Come in origine sarà permessa l'installazione di un deor in piazza Vittorio Veneto. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pinarolo, Marco Battiglia, ha rinviato a giudizio gli ex vertici della Proloco di Luserna San Giovanni. L'accusa è quella di malversazione. Di sei capi di imputazione ne è rimasto in piedi solo uno. Si contesta la regolare rendicontazione rilevata ad un servizio televisivo di 2.000 euro, che sarebbe servito per la Fiera dei Santi del 2006. Parte domani un nuovo servizio dell'arma dei carabinieri. I militari apriranno nelle ore del mattino all'interno dei locali comunali uno sportello per incontrare i residenti e per raccogliere segnalazioni, ma anche per dar consigli su come proteggersi da truffe e raggiri. Gli incontri proseguiranno anche la prossima settimana. Grazie a tutti.